C'è un test di personalità con il signor Cappella, andiamo qua. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wenderland Production, presenta il test di personalità. Testa, test, testa. Only a 105. Testa, test, test, test. Il test di personalità. In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cappella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di Vettiaia allo stato puro, verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconoscerà. Chiamo Cappella e chiamo la Cappella. Chiamo Cappella e chiamo la Cappella. Pronto? Pronto? Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Che cosa? Devi dire chi sei, nome e cognome. Eh? Quanto? Eh? Tranta? Tranta? Sì? Tranta? Tranta! Ma tu chi sei? E tu chi sei? Chi è Enzo, 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 Enzo? Eh? Pronto? Pronto? Sandy? Pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Fate capire bene chi sei. Prima di tutto direi chi sei. E la caramella del sordo. La caramella del sordo. E la tua latta schifosa come te. La caramella del sordo. Pronto? Pronto? Sì? devi dire chi sei, nome e cognome non ho capito pronto? si chi è Enzo, 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 Enzo ha fatto ancora tu Enzo, sorda, mala per tutta l'azza tu stronzo d'uomo stronzo d'uomo pronto? se mi dici chi sei ti posso rispondere io devi dire a te chi sono io che tu te levano e sai chi sono stronzo d'uomo ignorante, imbecile e cretino vuoi stranzo d'uomo pronto? scendo ma vuoi finire di chiamarmi? una sessione pronto? beh va a fare un culo che tortura beh va a fare un culo la passaccia da mamma del sordo di tutta la tua sagra famiglia che ti dev'anni avrei aprirsi? teori 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 va a fazzarci da mamma teori va a fazzarci da sordo teori beh va a fare un culo teori vuoi lasciare figli teori 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 è un verso 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 vender non mollare potrebbe tornare il vecchio cattellato a meno lo spese pronto? senti se mi dici chi sei ti posso rispondere vuoi lasciare figli e strafiggia ha detto prima tu chi sei e dopo ti devo dire io devi dire chi sei non mi voglio va a fare un culo va a fare un culo tu e tuo fratello io non ho fratello pronto? vuoi dire chi sei? eh? e niente non riesco a buttarci non riesco a metterci il telefono sta via va a fare il manuto il tuo nome va a fare la nuova non c'è il punto sopra il tempo il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo e allora fino a quando non chiuderà la telefonata noi aspetteremo pronto? che è Enzo? 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 va a fare in culo tu e tuo fratello io non c'ho fratello se anche tu conosci qualche vecchio pazzo non esitare invia subito il numero di telefono a vender at centocinque punto net non è così se vuoi ammazzare un tuo parente ereditare tutti i soldi che ha sul conto manda una mail a Wender perché che